Nelle torrefazioni di Alessandria d'Egitto il profumo è inebriante. I prodotti vengono confezionati a mano in piccoli sacchetti di carta, con le stesse tecniche di secoli fa. Miscele destinate alla preparazione del tipico caffè speziato, che, secondo l'usanza locale, prevede l'aggiunta di resina, cardamomo verde in polvere, noce moscata e chiodi di garofano. Il caffè Riche è sopravvissuto ai cambiamenti architettonici del suo quartiere, mantenendo uno stile decisamente retro. La sua travagliata esistenza si lega a quella dell'Egitto postcoloniale. Proprio qui è stato organizzato nel 1919 l'attentato al primo ministro Youssef Bashawaba, colpevole d'aver favorito con la sua politica gli alleati occidentali. Sin dal momento dell'ordinazione, i clienti specificano la quantità di zucchero desiderata. Se ne fa a meno solo in momenti dolorosi, come quando si è colpiti da un lutto. E può accadere che qualcuno si esibisca nella lettura dei fondi di caffè. Nel resto del paese, attualmente, è più presente il tè, diffuso durante l'occupazione inglese. Specie tra le zone rurali, restie ad assimilare gli stili di consumo introdotti dai turco-ottomani. SIGLA Oh, yeah! Oh, oh, oh! Oh, my God! Oh, yeah!